buongiorno a tutti eccoci al secondo video del canale doesn't matter mobile mi sono appena svegliato sono le sei e mezza e come potete vedere non è stato creato niente infatti lo sfondo non c'è ci sono soltanto gli alberi che quelli vengono generati automaticamente da un processore per il resto si possono intravedere delle montagne in lontananza ma non sono ancora state ben definite quindi è veramente presto perché neanche dio ha deciso di accendere il computer e generare la grafica che gestisce il mondo e che dire spero di inquadrarmi perché sto guidando tenendo il telefono con una mano sono ancora fuori città in una zona non trafficata quindi non sto commettendo nessuna infrazione infatti adesso mi fermo sono fermo e ok direi che questo micro video può concludersi qua anche perché non ho niente da dire sto andando a lavoro un cliente mi ha chiamato stamattina e quindi della strada girate a destra no no ma parla pure se vuoi apro apro pure un canale a te tipo doesn't matter tom tom non c'è problema va bene allora vi saluto e adesso mi do alla guida seriamente ciao a tutti e che dire lasciatemi un commentino qua sotto e non la sopra se questo canale può interessarvi se ogni tanto dico qualche mia cazzata su che cosa sto facendo ciao ciao